Esami di maturità 2011, tutto è pronto negli istituti scolastici baresi per la prima prova, quella di italiano, che inizia domattina alle 8. A meno di 24 ore dalla prova del tema siamo andati a curiosare nel liceo classico V Razio Flacco di Bari. Banchi, sedie e lavagne sono stati sistemati, di professori in giro nei corridoi ce ne sono pochi, solo quelli che hanno deciso di aiutare i ragazzi nel ripasso o di placare la loro ansia. Credo siano sereni con tutte le paure legate alla non conoscenza di un'esperienza nuova, però siano serene poi per quanto riguarda un po' la preparazione, gli sforzi profusi, l'impegno, lo studio, che credo sia stato adeguato. E di ansia e paura ce n'è tanta, ma in qualche modo cercheranno di tenerla a bada. Molta, molta paura, molta paura, però si fa, visto che abbiamo studiato un anno, eccetera, si fa. E' abbastanza tranquilla, devono passare. Paradossalmente, sì, è più tranquilla lei paradossalmente, che di solito è sempre quella più ansiosa, più, insomma, ce la faremo. Che cosa farai stasera? Una birra e pasta. Non lo so, optiamo per la spiaggia, spiaggia, un po' riti propiziatori. Ti pone già qualcuno in mente? Riti voodui, bamboline, qualcosa del genere sicuramente. E l'imbocca al lupo da parte del preside Antonio Di Tollo non poteva mancare. Questa rimane di fatto la prima seria prova di cui essi devono dare prova per l'appunto. Per cui per loro è importante, anche a livello psicologico e mentale, potersi concentrare su un obiettivo per il quale si troveranno di fronte delle persone che non conoscono. Quindi è un'anticipazione anche di quello che poi gli accadrà dopo.